Ripartendo dai servizi alla prima infanzia, il Comune di Montevarchi, considerando il fatto di voler sempre cercare di migliorare, di incentivare, di ritrovare le migliori soluzioni, intende partecipare al bando della Regione Toscana, che è un bando destinato proprio all'efficientamento e all'efficacia del servizio alla prima infanzia, è un bando a cui miriamo per poter partecipare, proprio per permettere un servizio educativo sempre in un'ottica migliore, sempre in continua evoluzione e in aggiornamento. Questo per agevolare l'inserimento dei minori, per un inserimento definito dalla Regione Toscana, universalistico, un'attività che possa agevolare anche la gestione del miglior modo possibile del tempo di lavoro, per l'inserimento anche dei genitori in attività lavorative. Tutto quello che è possibile il Comune di Montevarchi sta cercando di farlo per attivarsi, per poter partecipare a questo bando e per, appunto, come ho già detto, migliorare i servizi. Questo sarà estremamente utile anche come conferenza zonale dell'istruzione per utilizzare dei metodi didattici univoci, per cercare di razionalizzare il più possibile quelle che sono le risorse, ma non solamente finanziarie, ma anche di condivisione degli obiettivi e dei percorsi didattici. Quindi, come Comune di Montevarchi, visto che i due nidi a cui facciamo riferimento, abbiamo già parlato nei tempi scorsi, le domande sono terminate e abbiamo nuovamente riaperto le possibilità di iscrizione fino al 30 settembre, riteniamo di fare sempre tutto quello che sia possibile per migliorare ulteriormente i servizi che già sono eccellenti.